Buongiorno e benvenuti a Sette in Punto. Questa mattina ci occupiamo di politica, il referendum è alle porte, il referendum costituzionale 4 dicembre. Stiamo iniziando, così vi sarete accorti, a testare un po' il terreno per capire il fronte del sì e il fronte del no. Al di là delle posizioni espresse dai politici, dalle figure politiche, a seconda dell'appartenenza ai vari schieramenti, però stanno sorgendo i primi comitati e noi stiamo cercando di proporverli. Uno dei primi comitati, forse il primo addirittura nato in centro storico a Venezia, è il comitato Basta un sì Canareggio. E do il buongiorno al coordinatore di questo comitato, che è per Luigi Tamburini. Buongiorno. Comitato Basta un sì? Perché questa specifica Canareggio, che è una dei sestriere di Venezia? Perché il comitato ha una radice territoriale nel sestiere di Canareggio. Volutamente abbiamo cercato di... vogliamo avere una base territoriale non troppo ampia, anche non su tutto il centro storico veneziano, quanto più una penetrazione nell'ambito della società che conosciamo. È un comitato civico fatto da cittadini, fondamentalmente non politico, e che si basa molto proprio sul convincere a votare il sì il proprio vicino di casa, il proprio amico, la persona che si conosce. Se c'è un amico a Dorsoduro, a Castello, a Santa Croce, no, non può, viene eliminato. Assolutamente no, però spero tanto, è uno stimolo perché a Dorsoduro, a Santa Croce, a Castello, qualcun altro metta sul suo comitato. Mi pare che lo stanno mettendo su ai frari. Ma questo vuol dire che, se parliamo di Venezia, che comunque non ha proprio una densità di popolazione esagerata, e se a Venezia ogni sestriere ha un comitato, vuol dire che a livello nazionale quanti comitati tra sì e no potrebbero organizzarsi? Infiniti? La speranza era di arrivare ai famosi 10.000 comitati, si diceva i 10.000 comitati, non so se ci sia. Difficile che noi potremmo ospitarli tutti qui a Sette in Puto, perlomeno anche quelli del nord-est mi fa paura, perché ancora gli elenchi non sono stati redati in via definitiva. Comunque ne stanno sorgendo, anche a nord-est stanno sorgendo in molte realtà, per quanto riguarda il veneziano, stanno sorgendo nel Porto Curarese, nel Miranese, a Padova c'è un comitato che è sorto già da abbastanza tempo e che sta lavorando abbastanza egregiamente, insomma, su Verona. Ma ha senso parcellizzare in tutti questi comitati il sostegno di una scelta di referendum, che possa essere il sì o il no? Sì, ha un senso, ha un senso proprio per garantire una territorialità, per garantire una conoscenza diretta delle persone con le quali si va a parlare e che si cercherà di convincere a votare sì e si cercherà di convincere a cambiare l'Italia. Come funziona la vostra azione? La nostra azione? Allora, una delle... intanto mi piacerebbe citare alcuni dei membri del comitato... Perché è trasversale, se non sbaglio, perché quando si pensa nel vostro caso al sì, si pensa a magari posizioni filogovernative o di centro-sinistra. Invece confluiscono nel vostro comitato? Assolutamente no, è anche poi sbagliato personalizzare una posizione che è poi fondamentalmente una scelta etica, è una scelta di... io immagino che la scelta del sì, ma anche la scelta del no, per chi la abbraccia, è una scelta di lungo respiro e che non può basarsi su quello che è un governo fondamentalmente protempore in questo momento e che magari fra sei mesi non c'è più, insomma. Non è un caso che del comitato basta un sì, un canareggio, fanno parte almeno due elementi di formazioni civiche di santissime fra di loro. Abbiamo Maurizio Crovato della lista Brugnaro e Rocco Fiano, che è stato preside del Foscarini, insomma una persona molto nota a Venezia, che fa parte della lista Cassono, un consigliere comunale della lista Cassono. Quindi sostanzialmente i due candidati che si sono battuti alle scorse elezioni comunali di Venezia. Peraltro sottolineo che Cassono è per il no e Brugnaro non si è espresso. Quindi il che vuol dire che c'è una forte libertà di scelta. Il comitato, qualsiasi esso sia, qualsiasi posizione a braccia, ha una funzione esplicativa anche dei quesiti che pone in questo referendum? Assolutamente sì. Una delle tecniche, anzi, o meglio, uno dei mezzi che vogliamo utilizzare per far conoscere le posizioni di Venezia, ma anzi più che per far conoscere le posizioni di Venezia, per far conoscere l'assenza della riforma, perché molti semplicemente non la conoscono, non è ancora, non è ancora, è una riforma complessa, che anche naturalmente in molti non conoscono, una delle scelte che abbiamo fatto è quella di organizzare il filò per il sì. È un brand questo nome che abbiamo dato a... Cioè vi ritrovate in campo intorno a un fuoco e... Purtroppo no, sarebbe bello, sarebbe bello ma non abbiamo, ritrovarsi intorno al fuoco non si può fare nemmeno nella stalla, però riprendere l'antica tradizione veneta del trovarsi la sera, dieci persone, trovarsi in casa in dieci e qualcuno di noi che va a parlare, a dire, a spiegare quali sono le ragioni della riforma, ma anche da un punto di vista tecnico, cosa vuol dire superamento del legalismo perfetto, cosa vuol dire abolizione del CNEL, cosa vuol dire le nuove regole, le nuove regole sull'elezione del Presidente della Repubblica, sono numeri che possono risultare ostici, insomma. Secondo lei i quesiti sono stati formulati con onestà intellettuale, perché è ovvio, mi scusi, in un momento di spiccata antipolitica che se si scrive, volete la riduzione dei parlamentari, credo che insomma questo possa trovare consensi universali o quasi, invece è un po' più complessa la cosa, quindi dirà che i quesiti sono stati comunque validati dalla Corte Costituzionale. La formulazione. Ma guardi, per il fatto che non mi pare che sia scritto, volete ridurre il numero dei parlamentari, non mi pare che il quesito sia posto in questi termini, ma ritengo che siano posti in maniera onesta, per quanto sia un referendum che abbraccia numerosi articoli e soprattutto di tipo strettamente tecnico. Allora, è pur vero che probabilmente il referendum ideale vuole il divorzio sì o no? Ma qua si parla di un referendum costituzionale. La Costituzione stessa ha affidato a una minoranza, basta il 20% dei parlamentari, che richiede il referendum, proprio come clausola di garanzia, perché si arrivi a svolgerlo. È un referendum senza quorum, questo però non è specificato. Questo è una delle tante, nell'ambito della generale disinformazione, che speriamo di supprire in questi 45 giorni, che sono pochissimi, uno degli elementi che non è emerso è che è un referendum senza quorum. Quindi è importante andare a votare. È importante andare a votare. Non andando a votare non è che non passa il referendum. Se si va a votare... Vince la maggioranza delle scelte, o sì o no? E sarebbe francamente triste che una, qualunque delle due scelte, vincesse con una percentuale molto bassa di elettori. Insomma, per un referendum, per una riforma che appunto deve avere lungo respiro, che può durare decenni, sarebbe importante un referendum. Avete già iniziato la vostra attività esplicativa? Abbiamo già iniziato la nostra attività esplicativa. Ci sta aiutando molto la professoressa Adriana Vignieri, che è una costituzionalista, che è stata una docente di diritto pubblico, e che dimostra quindi come non è vero che i costituzionalisti sono per il no. I costituzionalisti ce ne sono alcuni per il no e altri per il sì. Una delle tante disinformazioni che passano è che i costituzionalisti sono per il no, i tecnici sono per il no. Non è vero. Probabilmente, insomma, adesso è vero, si parla di disinformazione, però stiamo iniziando adesso a fare informazione relativa al referendum, anche perché la data è stata decisa prima doveva essere a ottobre, poi è slittata al 4 dicembre. Lo stesso Premier ha parlato anche di modifiche in fase successiva, la luce anche, questo è un po' legato alla legge elettorale, indubbiamente, però fare un po' di chiarezza non è male. Insomma, io interpreto un po' il sentore della gente comune, di chi magari non è proprio dentro alla materia e che... E questo è il motivo dei 10.000 comitati, del comitato per ogni condominio, quantomeno per ogni quartiere o a Venezia per ogni sestiere. E viene apprezzata questa operazione? Sì, e soprattutto io mi sto convincendo di una cosa. Nel momento in cui non c'è informazione è in vantaggio il no. Questo perché c'è una reverenza comunque verso la carta costituzionale. Esatto, assolutamente, anche giusta. Nel momento in cui c'è informazione, ritengo che, anzi non vuol dire che passa in vantaggio il sì, perché poi non è una gara. Però ritengo che le ragioni del sì possono essere maggiormente comprese. C'è una reverenza giusta verso la carta costituzionale, di cui non dimentichiamo non vengono toccati i principi fondamentali. Perché questo invece è un punto su cui c'è molto timore? Perché effettivamente anche molti fautori del no dicono no, perché una revisione della carta costituzionale, che probabilmente è necessaria a 60 anni dalla sua stesura, fatta in questa maniera con un referendum non va bene. Forse andava fatto un percorso in Parlamento più strutturato, strutturato, vabbè, possiamo anche pensare alla vecchia bicamerale, tutti i tentativi che sono stati fatti. Allora, prevenso la vecchia bicamerale, quella alla fine degli anni 90 poi non portò a nulla. E questo, e chi porta avanti quel progetto di bicamerale, facendolo arenare e poi scegliere le ragioni del no, c'è qualcuno che ha fatto questa scelta, dovrebbe un attimo pensarci. Hai avuto la tua carta, hai avuto il tuo attore del tuo caro. Sì, ma a prescindere, adesso non facciamo. Parliamo di approccio alla carta costituzionale. Beh, allora, intanto il percorso in Parlamento, allora se, come auspico, il 4 dicembre vincere sì, il percorso sarà durato circa 30 mesi, che è un percorso piuttosto lungo, ha avuto sei votazioni, in tutte hanno prevalso le ragioni della riforma, in tutte e sei le votazioni. Quindi un percorso parlamentare complesso c'è stato. Non viene toccata la prima parte. Anche se la maggioranza è stata un po' anche sostenuta, no? Da aggregazioni e disgregazioni. Come è giusto che siano in una revisione costituzionale. Non è una revisione costituzionale della maggioranza. Sarebbe grave se lo fosse. È una revisione costituzionale di una parte importante del Paese, che ha i propri rappresentanti in Parlamento, insomma. Quali sono le ragioni del sì da parte del vostro comitato? Io le dico le mie, intanto. Sì, certo. Le mie sono generazionali, intanto. Io ho avuto la fortuna, ma è una cosa che ripeto spesso, ho avuto la fortuna di compiere 18 anni e votare nel 92. È stato un voto drammatico, a metà fra l'inizio di Tangentopoli e le bombe di mafia. Quell'anno venne eletto, al culmine dell'ennesima crisi della Repubblica, viene eletto Presidente della Repubblica Scalfaro, che iniziò il suo settennato dicendo questo sarebbe il settennato delle FIFOVME, con la EVE di Scalfaro. È morto Scalfaro. È morto Ciampi. Napolitano è stato riesumato in un'altra delle ennesime crisi di una Repubblica bloccata e le FIFOVME non le abbiamo viste. Io ho conosciuto da maggiorenne solo il ventennio perduto della politica italiana. Quindi un certo immobilismo? Un totale immobilismo. La nostra vita, la mia vita è cambiata completamente. Io telefonavo, dal telefonare con la scheda telefonica, sono passato allo smartphone, addirittura col gettone, sono passato allo smartphone. No, il gettone forse era più... Dalla lira siamo passati all'euro. Insomma, sono cambiate tante cose, attraverso la tecnologia o che ci sono arrivate dall'Europa. Da Roma cosa è cambiato? E lei crede che questa possa essere l'occasione giusta? Questa è l'occasione da non perdere assolutamente, perché altrimenti vivremo un altro ventennio perduto. Perderemo un altro ventennio. Infatti, invito chi sostiene le ragioni del no a rivedere la propria posizione, a votare sì. Ognuno poi, in libertà e in coscienza, vota anche perché le ragioni del sì hanno la stessa autorevolezza delle ragioni del no. ma nella maniera più assoluta. Però quello che volevo dire, quello che volevo dire, è se... Lei concorda in una visione di chi sostiene che votare sì sia comunque l'inizio di un cambiamento, che invece con un no si rimane in una situazione. Si rimane in un limbo per altri vent'anni e ci si continua a chiedere cosa dobbiamo significare e cosa dobbiamo fare. È assolutamente importante dare una piccola spallata. Nel vostro comitato ci sono più giovani, persone adulte, persone anziane? È molto ben rappresentato. È molto ben rappresentato. Si parte da un 23enne che si chiama Tiziano Ballarin e che tra l'altro è un consigliere, ecco, è l'unico forse politico, perché è un consigliere di municipalità del PD e si arriva a un'età più importante dell'avvocato Franco Zannini, che è uno storico avvocato veneziano, oramai in pensione, che è un po' la nostra memoria storica e che è quello che, insomma, ricorda anche come certi problemi legati alla nostra Costituzione, come certi stanze di rinnovamento, non siano di oggi, ma risalgono di tutti gli anni 50-60. Forse la devo correggere, perché c'è anche un'altra figura politica che è più nota come giornalista, che è il consigliere comunale, Maurizio Grovato. Sì, il consigliere comunale, Maurizio Grovato, che però io la vedo come una figura civica, nel senso l'espressione di una lista civica, come del resto Rocco Fiano, anche lui è una lista civica per Casson. Maurizio Grovato che adesso andiamo a incontrare perché fa parte del vostro comitato. Quindi io ringrazio Pierluigi Tamborini, coordinatore del comitato Basta un sì Canareggio Venezia. Subito dopo la pubblicità incontreremo un altro componente di questo comitato per capire meglio quali sono le ragioni del sì da referendum costituzionale. A tra pochissimo, grazie.